A Foggia anche il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, dove deve andare questo sud? Dove vuole andare questo sud? Il sud va verso dove cresce il traffico mercantile, dove c'è bisogno di progresso, dove c'è bisogno di innovazione, dove si possono consolidare le nostre povere economie. Il sud non può che guardare al Mediterraneo e noi abbiamo bisogno di utilizzare bene le risorse che l'Europa mette a nostra disposizione per creare al sud un vero e proprio polo di sviluppo. Se ogni regione va per la propria strada non saremo mai competitivi, non saremo mai attrattivi. Ecco perché io oggi lancio da Foggia un appello a un grande patto fra le regioni del sud. Con la Puglia che si può fare con il suo collega emiliano? Puglia e Sicilia hanno molte cose in comune naturalmente, hanno una storia, hanno un passato ma hanno anche un futuro da costruire assieme. Io ho un ottimo rapporto con tutti i colleghi presidenti e sono convinto che con la Puglia riusciremo a costruire e a consolidare un ulteriore rapporto assieme agli altri governatori, altrimenti il sud resterà sempre marginale rispetto all'Europa. Cosa prevede questo patto? Il patto deve prevedere una strategia comune, fissare degli obiettivi, capire quali risorse servono per raggiungerli e lavorare affinché una omogenea strategia possa razionalizzare bene le risorse e possa consentire al sud di proiettarsi nel Mediterraneo che oggi è diventato un polo straordinario perché mette assieme tre continenti e purtroppo in quel polo manca un interlocutore credibile. Sono qui per dare il benvenuto al Presidente della Regione Sicilia, che è un mio caro amico, una persona con la quale durante questo periodo di grande difficoltà abbiamo combattuto contro il Covid e soprattutto è una di quelle personalità assieme alle quali bisognerà costruire un dialogo sul mezzogiorno che non ci pregiudichi. Noi non ci fidiamo noi del sud perché diciamo la verità non ci è andata mai bene con il governo dell'Italia Unita, hanno sempre trovato il modo di tirar fuori qualche cavillo, qualche condizione, ci hanno qualche volta anche preso in giro perché no e adesso bisogna trovare il modo di spiegare che il mezzogiorno è l'arma più importante di cui dispone l'Italia per uscire definitivamente in modo stabile dalla crisi perché il recovery ha peraltro come pilastro, uno dei pilastri del recovery è proprio il recupero delle zone svantaggiate e quindi assieme ai giovani e assieme alla questione di genere e quindi noi ci auguriamo che al più presto il governo ci faccia capire in che modo vuole procedere e lasciando a ciascun ente, questo è il punto fondamentale, quindi regioni e comuni che abbiano le funzioni e abbiano le responsabilità del recovery secondo le loro competenze senza fare scorciatoio senza immaginare altre strade che in questo momento secondo me complicherebbero semplicemente un'operazione già molto complessa perché spendere tutti quei soldi non sarà facile anche perché nonostante le semplificazioni, nonostante il decreto semplificazione, nonostante gli interventi del governo le norme che affliggono questo paese sono infernali e devo dire che molte di queste norme derivano da direttive europee, questo è bene anche dirlo agli italiani, cioè le direttive europee che devono essere poi declinate nella legislazione italiana sono spesso un fattore di grande complessità, quindi speriamo di capire subito quando e come e per quali obiettivi comincia la battaglia perché noi siamo pronti, la Puglia è la regione numero uno in Italia nella spesa dei fondi europei, riusciamo a utilizzare bene i soldi, lo facciamo sia direttamente che attraverso i comuni, quindi prima ci danno il via e meglio è. Il centro sinistra ha spaccato a Manfredonia, torniamo a questa domanda? Stanno facendo il balottaggio sostanzialmente perché a Manfredonia si fa il balottaggio sicuro, quindi al primo turno, devo dire che la norma del balottaggio è molto utile proprio per questo motivo, al primo turno si va in questa maniera per misurare il peso di ciascuno e poi si andrà sicuramente tutti insieme al balottaggio, su questo non bisogna avere dubbi. Come va la pandemia in Puglia? Ovviamente quando le cose vanno bene uno non lo dice perché è per scaramanzia, un po' di scaramanzia ci vuole, siamo forse la regione che ha vaccinato meglio in Italia, anche come qualità nel senso che noi abbiamo vaccinato il più alto numero nella fascia più alto rischio, quindi vuol dire che abbiamo vaccinato in modo mirato. Anche il Presidente della Repubblica l'altro giorno mi ha chiesto come va, io gli ho detto che l'economia e la sanità andavano bene e lui mi ha detto sì sì, ho visto, avete dei dati sulle vaccinazioni che sono straordinarie, quindi mi sono incassato questi complimenti che ci hanno fatto bene. A proposito di politica, sulle coalizioni sempre più larghe nei piccoli comuni, lei è un po' quello che ha largato le coalizioni, ma cosa ne pensano? A molti partiti e poi queste liste civrette, che dice? È rimasto, credo, poco dei partiti, c'è il PD che resiste, gli altri, forse Alleanza Nazionale, Fratelli d'Italia che ha una tradizione di partito un po' più rigida, però devo dire che sul territorio l'organizzazione è difficilissima per tutti, Forza Italia che è un partito del leader e c'è il Movimento 5 Stelle che, devo dire, grazie a Giuseppe Conte sta crescendo moltissimo, ho visto piazze strapiene, ho avuto ragione anche questa volta.